Salve amiche ed amici, eccomi di nuovo qua, il vostro Santenchan vi saluta. Ieri ho fatto un video, ho trasmesso broadcast, una diretta ed ho anche fatto un tutorial sportivo, come allenarsi a ping pong. Oggi sono uscito e non ho avuto forma di fare nulla. Più avanti devo trovare di fare qualcosa. Intanto dopo un giorno di sole e relativo caldo, adesso si sta rannuvolando perché forse domani piove. Di fatto, vediamo un po', che ci dice il acquweather.com, sono le 17, non ho la connessione, mannaccia, però sta annunciato che domani, venerdì, 7, 4, come 7, 4? Ah, sì, perché i nordamericani mettono prima il mese, 7, 4, 7, 5, io dicevo, che strano. Siamo a 7, non a 4. Beh, 7, 4, domani, mese, 7, ci saranno 13 gradi e 6 di minima, però è annunciato nuvoli. Tutta la settimana è annunciata nuvolosa, sabato con pioggia. Dicevo, avevo perso la connessione. Adesso l'ho trovata, sono le 17 e 4. Adesso fanno 11 gradi centigradi, la minima sarà di un grado, ed è il 3, 0, 7. Quando entro invece il programma di acquweather mi dice 7, 0, 4, 7, 0, 5, però no, è che il mese lo metto una volta e prima. E niente, vediamo se sono uscito fuori capo. Al più presto farò dei video, qua si sente il cane passeggiare. Beh, vabbè, adesso si fa buio. Che altro dire? Cioè, oggi non mi sono preparato a niente, perché sono stato tutto il giorno fuori casa. Domani forse preparerò qualche tema. Avevo dei libri balenghi da presentare che non ho trovato altri. Cioè, non ci avevo pensato l'altra volta che ho fatto dei video sui libri balenghi che avevo anche questi libri balenghi, perché sono proprio strabalenghi. E piaceranno tanto il nostro amico Pietro Trevisan, però sarà per un altro video. Oggi mi sta. Poi dovevo anche leggere la vita del Buddha, leggere il libro di Sani Gesualdi. Lo farò in un altro momento. Niente, adesso entro in casa. Fa sempre più umido, sempre più freddo. Fanno 11 gradi. È invernissimo. Oggi ha fatto sole. Forse la temperatura... Adesso non stavano. Stavano, perché oggi ha fatto caldo. Oppure faceva vento fesso. 10 e 11 e 1. Ma... Domani farà 13. Aumenta, però è nuvoloso. Con sedi minimi, ma non uno. A volte le previsioni ha a cazzo di cane, questa applicazione per Android. Vabbè, allora, mi raccomando. Ciao. E statemi bene. Grazie per vedere il mio canale, i miei video. Ogni giorno sono 170 scorti in più del canale. A presto dal vostro sentenziale, dal vostro capitano. Senti, ciao. Ciao. E tu? Marco Travaglio. Tanto da cercare un capitano per la tua nave, che era senza un occhiero. E adesso che fai? Non mi rispondi. Ma non lo vedi che ce l'hai qua, il capitano per la tua nave? Guarda. Sto in alta uniforme. Tanto per quello che serve la nave del PD, un capitano. Sto vestito troppo forte, strafigo. E allora, che aspetti? C'hai un aspirante giornalista che può essere il futuro Indro Montanelli. Indro. Indro. Indro Montanelli. Poi, oh, un capitano così figo per la nave del PD, che ancora non ha capitano, deciditi. Se no, non ti si ripresenterà più un'altra occasione di avere un vero capitano nel PD. Ciao. Ciao. Poverina! Prendi la corda! 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 Prendi! Prendi la corda! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.